Convegni, iniziative, dibattite e incontri dedicati alle donne. Si rinnova per la seconda edizione Marzo e Rosa, il mese dedicato dal Comune alle donne, ma in un discorso che deve valere tutto l'anno. Si parte il 4 marzo con la presenza dell'On. Martina Semensato, Presidente Commissione Parlamentare sul Femminicidio. Si rinnova questa seconda edizione, un cartellone che è assolutamente istituzionale e quest'anno è veramente ricco di iniziative, una riflessione corare attorno alla figura femminile, attorno alla donna, quindi non soltanto spettacoli teatrali, ma anche dibattiti, confronti, corsi. Non saprei dire quali tra tutti gli eventi spiccano, ma sicuramente c'è un'attenzione particolare a lavorare con le donne, c'è un'attenzione particolare all'aspetto culturale. Quest'anno con il segno delle donne racconteremo, senza alcuna pretesa esaustiva, figure di donne che hanno fatto la storia dell'Aquila, ma non rinunciamo al dibattito istituzionale. Sarà con noi il 4 marzo anche la Presidente della Commissione per il Femminicidio, Martina Semensato. Discutiamo anche di educazione finanziaria, avremo anche dei corsi di autodifesa e l'8 marzo tutte quante insieme le amministratrici del territorio, le amministratrici locali si interrogano sulla questione del protagonismo femminile in politica. Ce ne sarà davvero per tutti i gusti all'insegna di questo colore rosa per questo marzo che ancora una volta ci deve unire in una riflessione che però vale per tutto l'anno. Ma gli appuntamenti sono davvero tanti. Il 6 marzo sul campo di San Gregorio ci sarà un amichevole. Il 7 e l'8 marzo la Fontana Luminosa si tinge di giallo. L'8 marzo si incontreranno le amministratrici del territorio per parlare di protagonismo e del ruolo delle donne nella politica. Ci sarà anche cultura con uno spettacolo il 13, mentre il 13 e il 20 si parlerà delle donne aquilane che hanno fatto la storia della città. Il 14 marzo la consegna della valigia di salvataggio per non tornare indietro, iniziativa pensata in collaborazione con la Polizia e con l'Associazione Donatella Tellini e ancora un corso di autorifesa. Per finire il 18 marzo, in collaborazione con la Banca d'Italia, si parlerà di educazione finanziaria, protagonista ancora una volta gli studenti delle scuole.